Sono arrivati da giorni a Rivergaro i rinforzi in divisa arancione. Le forze delle altre pubbliche assistenze del territorio cercano infatti, su indicazione del coordinamento provinciale di Ampas, di coprire i turni rimasti scoperti di giorni e di notte anche a causa delle difficoltà subentrate alla Sant'Agata dopo la messa ai domiciliari poi revocati dell'ex presidente Katia Sartori, la quale ha chiesto di essere ascoltata in questi giorni dai giudici. Le altre pubbliche ruotano quindi per dare continuità ai servizi. Inizialmente lo hanno fatto alloggiando alla Casa del Popolo, poi dall'ASL è arrivata l'indicazione di aprire in anticipo la futura sede del Polo di Protezione Civile, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune. Collaudo quindi d'urgenza e si sono aperte le porte. Mancando gli arredi qualcuno ha già donato un divano e un televisore. È già presente la polizia locale e i carabinieri forestali. Qui si insedierà quindi un Polo di Protezione Civile e adesso vi porto all'interno. Questo ad esempio che cos'è? Questi sono i garage dove sosterranno le ambulanze e i mezzi di protezione civile. Come potete ben vedere non è ancora ultimato perché alla fine noi ci siamo trovati a doverlo diciamo collaudare in urgenza e quindi determinati materiali sono ancora all'interno di questa sede. Noi siamo di Cassia San Giovanni, al Comitato Provinciale è stato chiesto di sopperire questa mancanza e ha chiesto anche a noi e anche altre pubbliche assistenze di venire a coprire il territorio. Siamo stati accolti bene dalla popolazione e quindi ringraziamo tutto il territorio. I volontari della Sant'Agata però, schierandosi a difesa dell'ex presidente, chiedono più chiarezza sulle sorti dei nuovi locali. Al momento la pubblica assistenza non ha ancora un nuovo consiglio direttivo che possa prendere decisioni né organizzative né economiche, rimasta senza i suoi vertici da più di un mese. Le elezioni del consiglio saranno il 12 dicembre, mentre all'associazione è stato ripristinato il documento unico di regolarità contributiva. Grazie a tutti.